Il punto 9, il consigliere Culeschi può aiutare? La mia porzione è molto semplice. Azzeramento delle identità di tutti gli amministratori fino a rientro dal fatto di stabilità. Premesso che le identità delle fatture del domenico generale sono compense a cui è possibile rinunciare con varie motivazioni e pertanto tali e monumenti non sono da ritenersi in nessun modo obbligatorio. Tenuto conto che i loro consiglieri comunali, Mirando e Potrenieri, avevano già volontariamente e liberamente rinunciati su detti compensi per lo scopo benefico a favore dell'intera comunità che la proposta di intera annuncia può avere una maggiore utilità sociale visto la maggior disponibilità di fondi, ecco i fondi che lo devo prendere. Restando più sempre in alterato lo scopo benefico, che l'eventuale accoglimento della presenza di posizione avrà un'ultima impatto sulle disastrate finanze comunali. Eccoli qua sempre i soldi quelli che togli dal software, che togli da tutte quelle cose che abbiamo visto prima. propongo all'intero Consiglio Comunale, nessuno escluso, di rinunciare volontariamente e liberamente a qualsiasi tipo di identità derivante e o conseguente la carica di consigliere assessore di Cessina per Singano al fine di dimostrare non solo parole, ma con i fatti concreti che non esiste e che non esisterà mai alcun interesse personale derivante dalla carica politica qui ricoperta. Dalla rinuncia propongo che venga mantenuta e metterata fino all'interno totale dallo scoramento del fatto di stabilità. Sono presi convinto che ognuno di noi, consapevoli dell'importanza di questa mozione, non vorrà sottrarsi all'approvazione della stessa, considerando che tutti noi, in tal modo, stiamo dando prova di essere nuovi di buona volontà, partecipi consapevoli degli difficili momenti che stanno attraversando il nostro Paese, formulando nel contempo i migliori esplici per il prossimo futuro. Allora, prima il sindaco di Rambola ha detto che, purtroppo, i soldi non ci sono, però io oggi ho fatto così, ho avuto un meraviglio calcolo, insomma, tanto parlo di numeri, perché così almeno facciamo un po' di idee. Siccome voi avete promesso nel vostro programma elettorale, avete promesso che è rientrato da parte di stabilità in due anni, giusto signor? Bene. In due anni, approvando questa mozione, si va a rispondere a 83.181,84 centesimi. Ah, io ho fatto il conto per 12 mesi di TAP, perché non so se chiederemo anche a te il G, ma non so, vai, non lo so. Io non lo so se qua, non lo so se l'hai comprato, non lo so. 12 mesi di TAP, ho fatto il conto su 12 mesi di TAP. Beh, che ho fatto? Non lo sapevo. A un attimo detto che non lo sapevo, ho fatto il calcolo su 12 mesi di TAP. Il totale è 83.181,84 centesimi. In questo conto non ho tenuto conto dei contributi che è comune verso il perreggio. Quindi sarebbe un ulteriore risparmio, perché non percependo più indemnità non si pagano più neanche i contributi. Tenuto conto anche del fatto che Mirandola e Contronieri l'anno scorso si sono tirati via i 10, 12, non so, nel tempo erano forse qualcosa di più. 12, 11 euro. 32 euro. Bene. Allora, secondo me è facile toglierci, come nel tavolo nostro, 4, 4, 9 euro e 11. Capisci? Ma sul tuo blog Marco scriveva il gruppo consigliare Novara prima di tutto, Marco, Contronieri, Luciano Mirandola, comunque a rinunciare, a percepire il gestione di presenza dei consigli comunali. Saranno devoluti in beneficenza. Questo vuole essere un segnale concreto in quanto riteniamo che in un periodo di grave crisi la riduzione del costo della politica sia fondamentale del punto di vista etica e economica. Etica e economica. Bene. vi faccio notare anche che proprio ieri un mio amico mi ha mandato via me in un articolo che non avevo letto è molto interessante perché i deputati della California non saranno pagati che non si è iniziato a dire. E' fantastico questa cosa qua. Cioè, si togono i stipendi urti l'entrata del bar. Allora, siccome la vostra vista si chiama Novara prima di tutto, se prima di tutto vengono a Novara noi votiamo tutti quanti in favore questa mozione, facciamo un bel atto di altruismo, così facciamo risparmiare tanti soldi al comune, tanto in fondo sono solo due anni, si chiedono perché poi hai detto Pierini, quindi facciamo risparmiare questi 83.100 euro così si possono ripristinare i due dei software e quelle cose che avevamo detto prima e così fate vedere che veramente voi che viene a Novara in Novara viene benedita prima tutto come deve se ne fosse così grazie Io parto, io non percepisco il settore quindi facciamo parte a parte quello il discorso che facevo quando ero da quella parte lì perché non mi piace adesso fare i discorsi perché si risiede qua rispetto a quelli di quali ci si sedeva io ritengo che in un periodo come questo e qua parte in un livello che vola molto più alto rispetto al comune di Novara fare agli amministratori non si è effettivamente facile ci si deve assumere comunque delle responsabilità comuni per lo stipendio che si accettisce allo stesso tempo però mi rendo conto che le difficoltà economiche prima era uscito anche il discorso dell'indennità facendo riferimento alla dedica a quella precedente delle rette perché se 17.000 euro erano la diversa conseguenza insomma di una riduzione del 20% è chiaro che un'età del 20 al 40 al 50 non andano anche al 100% probabilmente si sarebbe aiutato di tutto il resto no non entrando più nel merito di quella questione lì però mi sento di dire che se lo pensi c'è per un amministratore nel 2011 dato che anche le giunte sono formate da sempre meno persone date che però le problematiche come dicevo anche la volta scorsa non diminuiscono non diminuire i componenti della giunta dovrebbe diventare effettivamente un lavoro questo come lo repito io quindi il sindaco dovrebbe fare per lavoro il sindaco appunto e allo stesso tempo è chiaro che gli assessori dovrebbero poter fare esclusivamente gli assessori però eventualmente con degli stipendi in grado di mantenere quantomeno la propria vita quindi l'euro da vitenere più o meno meglio allo stesso tempo però garantendo proprio per legge che un assessore o un sindaco o un vice sindaco fa esclusivamente quello per dare probabilmente una possibilità e anche probabilmente il dovere anche di essere presente di essere anche non solo presente fisicamente in comune ma anche di dare un certo tipo di fronte una persona che fa esclusivamente quello si presume che possa dare un contributo maggiore rispetto alla persona che lavora magari tutta la mattina e va in comune al buon inizio comunque dei dettagli di dentro questa è una cosa che non è possibile allo stesso tempo però la mozione di Mirko è una cosa che trova il mio appoglimento l'unica cosa che direi che riguarda il sindaco perché per quanto riguarda gli assessori 300-400 euro adesso non so neanche cosa prende un assessore comunque più meno di sempre sono quelli lì 428 euro ecco non si è un 4% euro l'unica cosa che direi la riduzione comunque di un compenso fino allo sporamento del fatto di stabilità anche del 100% potrebbe andare bene l'unico escluso che mi sento dire potrebbe essere in questo caso o quantomeno rendere la volontarietà per il sindaco nel momento in cui decidesse effettivamente il dato di un milione che ricordo sui sindaci i giorni d'oggi di farlo esclusivamente in aspettativa sempre per il principio che un'entrata comunque per diversare da parte del nostro gruppo ci sarà un voto positivo questo penso sarebbe senza nulla togliere il 20% di riduzione come abbiamo detto prima che è già un passo in questa direzione allo stesso tempo ci sentiamo comunque di dire che per quanto riguarda il nostro gruppo noi non accettiamo che Emanuele ha già dato comunque il sottoscritto o tiene disponibilità a ridurselo sperando che possa servire se il pulso è una mancia perché sono neanche 100 euro l'anno quindi non è tanta roba però se servono magari per mettere insieme 400 euro per un condizionatore che sta a fare io propongo anche a me insomma dato anche la temperatura del presente propongo quindi tutta parte è un voto positivo e allo stesso tempo proporrei anche una questione da battuta ad un ingresso di Costantino giunta perché effettivamente questa sera si è venuto più troppo positivo e anche più all'avanguardia rispetto ai stessi non è quasi niente non è così allora anch'io il tuo parere favorevole e aggiungo questo che sono consapevole del fatto che chi deve amministrare comunque ha delle responsabilità e quindi è anche corretto che abbia un'intermitità per questo che fa visto e considerato appunto questo periodo di crisi e questo sforamento del fatto di stabilità a cui andiamo incontrutiti per appunto avere diciamo per un'interessi proprio del primo del vino gara per intanto vedrai anch'io e io lo rinuncio per volentieri ovviamente per poco che provo a riservire il mio gettone penso e spero che anche voi se non è proprio al 100% però pensiate che questo potrebbe essere una piccola parte per un altro la mia domanda prego prima riporto una domanda alla segretaria comunale che per curiosità personale qualora venisse accettata l'ipotesi dei supermoreschi supponiamo che il sindaco raggiunto che per me consigliere il pezzo 100% o meno se non penso che faccia differenza se il non recepimento dell'indemnità da parte del deciso questa sera va ad influire sulla propria dichiarazione di reti io penso che comunque se l'amministrazione comunale da dei soldi ai componenti del giustore del sindaco che sono una certa cifra è logico che a livello personale la dichiarazione di reti si questa cifra finisce la dichiarazione di reti si non ti dichiarai niente se lo vedete niente scusa io non so te lo so te lo so ti dico questo discorso è questo cioè da un punto di vista fiscale il non recepimento però il comune deve fare una dichiarazione che ha dato al signor mirandola con la cifra che loro devono presentare tante interazioni di reti per poi dopo non averla recepita infatti questo volevo sapere come tu ci sapevo allora mi ho visto faccio una premessa la mozione di questa sera comunque comunque secondo me ha un valore come dire politico programmatico ma puoi dare un discorso mi sembra anche giusto che se uno ha una dichiarazione da parte dell'amministrazione del comune che richiara che il signor Controniere ha ricevuto 5 mila euro e su quei 5 mila euro può fare un'accelerazione su quei 5 mila euro può vedere pagarsi le tasse no no arrivo arrivo ho fatto questa premessa perché per dire che la funzione presentata questa sera ha un valore politico e in tecna diciamo sicuramente allora non esserlo stata l'amministrazione comunale però dal punto di vista dell'efficacia giudica o delle conseguenze che potrebbe avere è per legge necessaria sarebbe necessaria una deliberazione della giunta che è competente a ridurre le tasse di lei e la parte della giusta dico questo perché sempre per ipotesi qualora ci fosse poi questa deliberazione della giunta comunale che va a zerare il tariff e in verità scusate in questo caso non risale per la restruzione da parte della giusta centrale del buchero e quindi non avrebbe di carcere di capire una cosa chiedo chi è invece dipendente di vita privata partecipare al consiglio comunale o altre cose chiedere un borsa da parte del comune giusto? l'amministrazione deve pagare la cifra che non so se c'è l'incendente qua però un dipendente ha diritto ad essere ribossato c'è la vita deve essere ribossato dall'amministrazione però se un amministratore dipendente lavoratore di cipolli di nascita dipendente che chiede il permesso per assentarsi dal lavoro e che gli dispende il permesso se il datore di lavoro è privato o imborsa l'amministrazione comunale sul quale svolge l'amministrativo se il suo l'amministrazione di lavoro è pubblico no ok va bene la miniatura comunale è obbligata a corrispondere in corrispettivo della mancata solo se il datore di lavoro è privato e lei è preso il lavoro non ha titolo per chiedere il imporso al diritto ci permette diritto a se l'ipotesi uno di voi forse dipendente usare il nome comune ha diritto all'ottenere il permesso in quel caso quello del comunino non è obbligato per leggere forciare l'assenza al comune verso il quale l'amministratore è dipendente il proprio campo non è importante il proprio campo prego per questo come vi ci dà la possibilità di discutere su parecchie cose intanto la responsabilità di un amministratore in questo caso non so quanto lo sappiano si prevede anche un'assicurazione da parte di chi amministra perché non è che si ferma qua a un mandato però ci sono anche delle polpe che possono essere incutate cinque anni prima e cinque anni dopo il mandato quindi non è obbligo però un buon amministratore deve farsi anche una sicurazione per la colpa grave perché la colpa li è di solito già compresa dovremmo verificare anche se in questo comune se è questo tipo di sicurazione ma penso che sì quindi la responsabilità è tale che puoi anche rimettersi di soldi dopo il tuo mandato ok quindi non è detto che se uno non percepisce niente ne va lì se per cinque anni succeda qualcosa da qui sappiamo che finisca oggi ma sono andato per cinque anni noi non dobbiamo rispondere quindi la colpa grave è un'assicurazione che costa molto caro ok e questo non si tiene conto e chi amministra lo parla per volontariato beh io faccio volontariato ma abbiamo volontariato quello d'altro se mi lasci finire la tua mozione l'hai letta l'hai sviluppata per riuscire più male quindi adesso possono intervenire per la mia questo poi condividerai me quindi alla fin fine volontariato io lo decido per altre cose invito tutti chi ha un attimo magari di tempo di passione di fare altrettanto qui fare volontariato per questa amministrazione e per chi ha amministrato negli anni passati sbagliando mi sembra che sia un po' grave allora siccome oltre a te che hai letto la mozione e l'hai presentata mi sembra che provi d'accordo anche i due gruppi consigliari che hanno amministrato in passato ok ti dico facciamo la retroattiva questa cosa non mi sembra che Montemezzi e Parco si siano alzerati in denità è nemmeno ridotto del 20% non mi sembra che nemmeno il gruppo di penati prezzi insieme a per una gara anzi mi ricordo che se l'aveva addirittura duplicato poi hanno portato all'osporamento del fatto allora se noi dobbiamo pagare anche per quello degli altri adesso altri si stanno dicendo questa sera è giusto che azzeriate i vostri compensi voi non l'avete fatto se siete stati qua a nove mesi potevate benissimo farlo avete scelto di non farlo però dite a noi di farlo questo è il concerto non tiro io lasciate parlare finisco il concerto ma tu vai fuori non c'entra niente non c'entra c'entra che troppo no ma no c'entra che troppo allora poi vizi mirandola poltroniere mirandola poltroniere sono due persone che fanno parte di questa giunta ma non è tutta l'assunta nemmeno è tutta la lista quando si fanno le cose si fa un team si decide insieme di avere le linee da portare avanti bene noi questa non è che l'abbiamo deciso questa sera qui o qualche giorno fa dentro queste stanze l'abbiamo deciso ancora prima della campagna elettorale quando ci siamo messi in gioco abbiamo detto siccome la situazione del comune di Nogara è così grave che bisogna dare anche un segnale spontaneo di diminuzione dei contensi non avevamo deciso per esempio alle però c'era questa intenzione noi l'abbiamo messa nel nostro programma se tu vai a leggere il nostro programma al secondo capoverso tu lezzerai andiamo a prendersi questo è quello depositato in comune allora riduzione delle indennità degli amministratori per contribuire al rientro del patto di stabilità scritto nessun altro gruppo e qui ho tutti i programmi né tantomeno quello di un mio comune di cinque stelle né quello distribuito alla cittadinanza né quello depositato in comune a delle fasi che riguardano l'azzeramento dei compensi allora io vi chiedo perché nel momento in cui non vinci le elezioni quindi sei dalla parte della miglioranza proponi l'azzeramento e invece non lo proponi più perché tu dici che non solo parole bisogna dimostrare noi l'abbiamo scritto addirittura l'ho scritto rimane noi volevamo dimostrare ai cittadini che se fossimo se avessimo vinto le elezioni che fossimo arrivati qua la risposta fa davanti e l'abbiamo data nell'ordine 20% questo è quello che abbiamo deciso noi poi qualcuno può dire è tanto è poco però l'abbiamo deciso insieme e l'abbiamo scritto allora io ti chiedo perché tu non l'hai scritto perché prima di presentarti i cittadini non hai messo una frase che poteva far capire che ti saresti azzerato l'identità se avesse vinto le elezioni voi scrivete che riguardo il bilancio comunale che è l'unica e l'ultima frase giusto di questo vecchio diciamo quello che è girato anche per il paese si dice revisione di tutti i contratti di servizio come intento di ridurre i costi riduzione di risprechi i servizi che possono essere ridotti dovranno trovare sostituzione con organizzazioni di volontariato dove il comune provveda alle sue spese vive con mano d'opera a carico dell'associazione di volontariato non si parla di indennità in nessun programma di vostro in questa serie invece avete tre gruppi che tutti dicono azzerati di indennità azzeriamoci allora io ti dico abbiamo il coraggio anche di dire le cose prima non andiamo a fare delle scommesse quando si sa da chi ha vinto chi ha perso andiamo di uno prima noi l'abbiamo fatto e siamo qua di fronte dei cittadini abbiamo mantenuto perlomeno in quello che abbiamo scritto nel programma quello che noi abbiamo detto è campagna elettorale voi non avete detto niente abbiamo vinto noi allora quelli danno devono prendere il suo compenso quindi io dico fate un esame di cosenza in quello che dite in quello che scrivete prima e durante la campagna elettorale date buon esempio dei vostri gruppi mi riferisco insieme al locale e anche al gruppo di Lega o per mezzo insomma date questo visto che andate qui andate a prendere le compense che avevate l'anno fa fate la somma che ho fatto Mirko prima e in retroduttiva versate il momento quello che avete perseguito noi lo stesso magari gli amici di Penate Fezzi facciano lo stesso anche loro allora capiamo che tutti quelli che si sono seduti qui hanno fatto uno sforzo per il loro paese perché prima di tutto una gara noi ce l'abbiamo e l'abbiamo anche nel programma abbiamo mantenuto le promesse che stiamo mantenendo con tutti i limiti che possiamo avere però queste sono nostre sedi sì adesso non sono andati infatti sono chiari io credo che ognuno poi la coerenza di confondi dei cittadini sia nel rispettare le promesse che sono state fatte in campagna elettorale perché abbiamo chiesto il voto noi le abbiamo chiesto su questo programma lo rispettiamo il nostro impegno per la gara e risanare il debito ricordatevi sempre tutti che siamo storati non per colpa nostra poi diventa anche letteramente contraddittorio il fatto di dire noi abbiamo sforato e voi pagate noi abbiamo sforato e noi paghiamo sarebbe più bello perché già l'anno scorso c'era lo sforamento del fatto di stabilità sarebbe un grande gesto da parte di Falco di Montementi perché sì è vero noi abbiamo sforato eravamo i responsabili vi portiamo indietro vi portiamo indietro tutti i soldi perché eravamo il sforamento del fatto sarebbe un grande gesto di Contementi io vi dico guarda lo apprezzerebbero tutti i cittadini sull'info dimostrerebbero di essere bravi dimostrerebbero di essere e poi magari ci pensiamo che cominciate a dimostrare che una persona anche più nuore che non richiede come ha richiesto il fatto di sia il comune a pagare il fatto che sia la sua vita a pagare cominciate a dare testimonianze di questo tipo allora siete anche un po' di prezzi noi rispondiamo ai cittadini rispondiamo di quello che abbiamo chiesto in Consiglio Comunale non voteremo questa mozione perché voteremo contro questa mozione voi siete assolutamente liberi se volete di dare tutti gli atti e tutti gli attestati di buona volontà che volete lo apprezzeremo molto grazie di riluppare la mozione favorevole 4 contrari grazie prego grazie grazie